Oggi vi spiegherò come è possibile utilizzare uno strumento sempre web-based, quindi un'app disponibile online, che consente di realizzare dei progetti grafici di altissima qualità. Io con questo strumento ho realizzato questa copertina di e-book per un altro progetto che sto realizzando, in pochissimi minuti, con una qualità grafica davvero alta. A partire da un'immagine che è questa qua, quindi partendo da un'immagine di questo genere, con lo strumento che andremo a vedere, sarà possibile realizzare un prodotto di alta qualità. Il prodotto in questione si chiama Canva. Andiamo sul nostro browser e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Qui ci dà l'indicazione per l'istruzione, ma è possibile utilizzarlo in moltissimi altri modi. Che cos'è Canva? È uno strumento online, quindi web-based, che permette di realizzare progetti grafici in maniera estremamente intuitiva. con la modalità drag and drop. Le immagini disponibili nel repository di Canva sono numerosissime. È possibile lavorare in Canva anche in maniera collaborativa, quindi non necessariamente fare un lavoro individuale, ma chiedere ai ragazzi di lavorare contemporaneamente. Ed è possibile integrarlo con le Google App for Education. Non dobbiamo creare un altro account, dobbiamo semplicemente iscriverci tramite Google. È possibile realizzare in questa maniera una grandissima quantità di materiali didattici, vedremo. Nel nostro caso stiamo realizzando un ebook, ma le possibilità sono davvero numerosissime. Qui ci sono i consulenti didattici di Canva. e andiamo anche ora ad esplorare che cosa è possibile realizzare con Canva. Diversi tipi di progetti, blog, ebook, documenti, guardate quante immagini e quante possibilità di rappresentazione si possono ottenere, documenti di vario genere, agende, intestazioni di email e social media, biglietti da visita, brochure, degli storyboard, quindi per realizzare anche dei video, biglietti di invito, programma ed eventi, anche dei planning di lezione, annuali scolastici, copertine di libri, banner, copertine cd. C'è una quantità di grafici disponibile davvero impressionante. Guardate quante tipologie di grafici è possibile utilizzare. È possibile in tempo reale modificare delle foto, quindi non dobbiamo andare ad utilizzare altri strumenti per modificare le foto, possiamo modificarle direttamente in Canva. Canva offre anche la possibilità, vedete in questa sezione stampa, la possibilità di chiedere direttamente a Canva il servizio di stampare il progetto che abbiamo realizzato, sono delle stampe professionali ma sono a pagamento queste stampe, ovviamente. Noi possiamo semplicemente scaricare il nostro progetto e poi stamparlo con la nostra stampante. Adesso andiamo a vedere come funziona. Sono entrate in Canva, indirizzo www.canva.com. Escono varie tipologie di progetti, quindi vado su altro, blog e ebook. Io prenderei copertina libro per un ebook. Arrivo in questa sezione. Ci sono varie possibilità, posso scegliere dei layout già predisposti, ce ne sono tantissimi. Ci sono anche gli elementi. È possibile inserire del testo, degli sfondi con colori differenti, a me interessa in questo caso lavorare su un'immagine, quindi carico l'immagine, vado ad una sezione caricamenti didattica digitale. Apri. Qui è comparsa l'immagine, adesso la carico. La ridimensioniamo. Io direi che in questo caso sia utile inserire uno sfondo. Ci sono una serie di sfondi gratis. Scegliamo tra questi, tanto ce ne sono tantissimi. E li mettiamo di nuovo l'immagine. Adesso aggiungiamo del testo. E possiamo scegliere vari formati, varie tipologie di testo, anche colorate molto suggestive, quindi non dobbiamo stare a lavorarci tanto. Questa mi può piacere. E la vado a ridimensionare dall'angolo, come sempre si fa in questi casi. Adesso andiamo a modificare la scritta. Abbiamo realizzato la nostra copertina. Se il progetto ci piace, lo possiamo scaricare. Possiamo scegliere se scaricarlo in PDF, oppure in JPEG, oppure in PNG. Scelgo JPEG. A questo punto vado a selezionare la cartella nella quale andare a salvare il file. Il file è salvato ed è pronto per essere editato sul mio ebook.